cari amici di mille un'avventura con la parte quarta si è finalmente conclusa la serie che riguarda disegnare pixel in alta risoluzione in assembly sul commodore 64 qui sotto nei commenti potete suggerire quali altri video potrebbero interessare tutti gli iscritti che sono arrivati qui sul canale non per le avventure testuali o per unity o per altre cose ma per il commodore 64 ecco suggerite quello che potrebbe essere utile fare vi dico però che cosa potrei fare io probabilmente come futuro video sul c64 e la cosa come vedete riguarda già qui si vede qualcosa un gioco che sicuramente molti conoscono e che potrebbe essere tranquillamente ed è stato portato sul c64 in passato si tratta di una trasposizione delle corse con le light cycle di tron questo film del 1982 che è diventato un film di culto un vero cult per molti anche se all'epoca ebbe poco successo al botteghino ci sono degli appassionati che negli anni 80 erano ragazzine quindi si ricordano questo film con bruce box laidner e chi c'era anche nella nel cast jeff bridges c'era quindi c'era un cast eccezionale creato dalla disney questo film però non ebbe seguito ed è stato il primo film ambientato nella realtà virtuale addirittura all'interno di un computer erano immaginate queste scene con questi personaggi ed erano stati utilizzati nell'82 dei super computer dell'epoca per realizzare queste scene colorate per la colorazione così particolare delle scene ecco qui che vediamo alcune caratteristiche caratteristiche scene e chi era a questo punto bisogna dire chi era bruce box laidner perché jeff bridges magari se lo ricorda ancora qualcuno ma bruce box laidner magari non se lo ricordano più i ragazzini del nuovo millennio e era stato all'epoca molto in voga aveva proprio fatto molto successo con alla conquista del west una serie tv che dal 79 è andata in onda in italia ma era una serie che dal 76 al 79 era andata molto aveva avuto molto successo negli stati uniti e qui vediamo bruce e qui vediamo zebulon mccain non mi ricordo come si chiamasse forse arness l'attore quindi una serie che forse non si è mai più vista ma che all'epoca aveva fatto successo e bruce box laidner era appunto il protagonista di tron e ambientato all'interno di un computer per qualche motivo i protagonisti si trovano all'interno e devono combattere diciamo contro il controllore centrale che ovviamente è malvagio e per combatterlo c'erano tutta una serie di giochi tra cui le light cycle queste queste moto che lasciano dietro una scia che però è solida e ci si finisce per scontrare è stato fatto anche tron legacy magari questo se lo ricorda qualcuno del 2010 però evidentemente per fare un sequel dopo 30 anni la disney ha faticato proprio a pensarci e si parla ancora di un ulteriore film ma sono già passati 12 anni questa 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 particolare franchise è un po difficile da portare avanti non trova molti appassionati e appunto cosa vorrei fare visto che abbiamo imparato a disegnare un po di pixel sullo schermo o col basic o con l'assembly viene bene studiarsi un gioco tipo queste corse sulle moto in questi ambienti virtuali visti dall'alto che diventano anche semplici da realizzare ecco per esempio qui vediamo una scena originale del film ovviamente la disney mi censurerà il video notate la colorazione c'erano erano stati impiegati dei super computer dell'epoca per realizzare queste colorazioni che adesso su un banalissimo cellulare si riescono a ottenere molto meglio però diciamo che l'atmosfera era adatta a una situazione di questo tipo e vedete ci sono qui quello era bruce ci sono queste moto che devono evitare di scontrarsi non si capisce bene come mai una vada più veloce dell'altra in certi momenti ci sarà in qualche modo un booster qualcosa che li fa accelerare e bisogna stare attenti a non scontrarsi con queste pareti che vengono costruite ricorda un po lo snake ovviamente dato che lo snake l'abbiamo già realizzato in un video precedente sul c64 ecco qui che si va a scontrare e c'è questa questa sconfitta e sparisce la parete ecco queste stesse scene le hanno poi riprodotte nel 2010 con più facilità visto che ormai la computer grafica è diventata eccezionale e perciò è tutta un'altra cosa è anche tutto molto più complicato come come corsa in questo caso infatti vedete possono curvare possono fare cose molto più complicate di quelle che erano previste nelle gare di light cycle originali ma andiamo a vedere cosa potremmo fare cosa c'entra il commodore 64 ecco qui prima ovviamente sulla scia del successo tra virgolette non troppo eccezionale del film però erano stati anche creati dei cabinati degli arcade con alcune alcuni giochi che si potevano trovare nel film qui si vedono le light cycle e qui proprio un primo livello semplicissimo e a seguire poi i livelli successivi andavano a riprendere altre scene del film ma ve lo andate a vedere se volete si trova su youtube come vedete è chiaramente un gioco così semplice ecco vedete che praticamente snake solo che c'è un secondo snake non ci sono le diciamo le mele da mangiare però bisogna tentare di sopravvivere e clamorosamente abbiamo vinto ma perché è la modalità facile proviamo medium vediamo se riusci a lasciatemi partire almeno ecco adesso bisogna solo resistere ci sono abbiamo vinto non è che sia l'intelligenza artificiale del computer non è che sia il massimo proviamo la modalità difficile giochiamo a pensavo di averlo intrappolato e invece invece mi sta intrappolando lui purtroppo mi sa che questa va a finire male forse adesso lui ha tutta la parte aperta e io invece sono imbottigliato qui dentro e quindi in modalità difficile ha vinto il computer è chiaro che un gioco del genere è facilmente trasponibile sul commodore 64 però volevo usare una caratteristica del commodore 64 lo smooth scrolling che all'epoca negli anni 80 non mi sembra di aver mai sfruttato è quella modalità che consente allo schermo di essere spostato in modo dolce ottenendo uno scrolling che non è uno scrolling di 8 pixel alla volta come si deve fare passando da un carattere all'altro in pratica la mia idea come avete visto qui sarebbe di togliere le pareti e fare in modo che come in pacman se si esce da una parte si rientra dall'altra invece in questo caso se si finisce contro una parete finisce il gioco e in effetti mi piacerebbe seguire il moto di queste life cycle facendo uno scrolling dolce del video però mi sembra di aver capito andando a rivedere come funzionava avevo letto smooth scrolling quindi mi ero già un po entusiasmato sembra che il vic 2 del commodore 64 possa fare solo piccoli step al massimo si arriva a 8 step ma poi bisogna tornare indietro non riesco a spiegarmi bene ma forse adesso vedendo degli esempi si capisce quindi probabilmente la mia idea non si può realizzare come pensavo io c'è anche un esempio qui che possiamo andare a vedere e allora magari farò semplicemente un piccolo dimostrativo in cui ci sono le due moto come avete visto in quel programma scritto in javascript senza scrolling però mi sarebbe piaciuto sfruttare lo smooth scrolling che mai avevo applicato in passato ecco qui c'è un esempio in cui si vede lo smooth scrolling sul c64 in azione adesso eseguirà il programma vedete che si riempie tutto con un carattere uguale diciamo dappertutto e poi comincia a fare questo scrolling si vede un po si vedono le righe un po del flickering no che però dovete immaginare che questo movimento avvenga per 8 bit 8 pixel vengono spostati e poi viene riportata l'immagine giù e quindi sembra che stiano avanzando tutti questi quadratini ma solo perché sono una tessellazione con quadratini e quindi non ci si accorge che in realtà si sposta di 8 pixel qui intanto ha finito si sposta di 8 pixel in questo scrolling e poi torna indietro e così via continua ad andare avanti indietro purtroppo non si può fare uno scrolling continuo che sarebbe stata la cosa che mi sarebbe servita ho anche ecco riprodotto il programmino che era proposto sul manuale la programmer's reference guide se lo eseguiamo andiamo a vedere un attimo ecco se lo eseguiamo vedete che applica questo scrolling dolce in effetti funziona no si sta si sta spostando verso l'alto pixel dopo pixel ma anche in questo caso usa sempre la stessa scritta andando a scrivere sopra sempre una nuova parola tutta tutte uguali quindi in realtà stiamo spostando verso l'alto 8 pixel 8 passetti piccoli poi uno indietro per tornare indietro continuamente così e quindi se si usasse questo metodo invece di tornare indietro bisognerebbe poi con linguaggio macchina velocemente andare a copiare lo schermo traslato non so se mi sono spiegato questa cosa con l'assembly si può fare ma usando i caratteri io invece volevo riprodurre la corsa con le light cycle nella risoluzione multicolore quindi quella particolare risoluzione alta risoluzione del c64 ma con più colori vediamo ci si proverà tanto insomma non è che lo faccio domani magari lo faccio tra un mese chissà quando avrò il tempo per farlo però ci proviamo e vediamo se si riesce a combinare qualcosa ecco dicevamo quindi chiudiamo un po tutte queste cose ecco poi eventualmente anche qui tutti i progetti che inizio e poi non finisco c'è ancora quel progetto di riprodurre la trench run di guerre stellari del 1977 l'avevo promessa per il millesimo iscritto siamo già quasi a 1200 e non l'ho ancora finita l'ho impostata ma è ancora ferma agli ultimi video che ho mostrato però volendo ci sarebbero qui tanti modelli di light cycle di tron e alcuni si possono scaricare sono pure molto belli guardate questi questi purtroppo non si possono scaricare ma sono bellissimi e quindi pensavo ma perché se ho il tempo non ci mettiamo lì a riprodurre il gioco anche con unity quindi si potrebbe fare il gioco col c64 con javascript l'abbiamo già visto è già fatto inutile mettersi lì a rifarlo con javascript però con unity sarebbe interessante farlo e qui c'è effettivamente un modello abbastanza stilizzato che potrei scaricare vedo che qui questo si può scaricare e potrei metterlo appunto in unity per tornare un po occuparmi anche di questo motore grafico tridimensionale che per colpa tra virgolette del commodore 64 un po lasciato da parte però insomma la passione torna cessa per un argomento ricomincia per un altro e quindi chissà che non si riesca a realizzare una corsa tra light cycle di tron con unity dopo ovviamente averlo fatto col commodore 64 bene comunque qui sotto nei nei commenti scrivete eventualmente se avete qualche altra idea di qualcosa che non richieda troppo tempo per essere realizzato qualcosa che si possa fare in breve tempo e che permetta di imparare un po di più o il basic o l'assembly del nostro amatissimo commodore 64 a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivedi in uno dei prossimi video ciao a tutti